Questo smartphone full screen con il foro nella fotocamera è un nuovo smartphone Huawei, è un nuovo P40 Lite, in questo caso la versione 5G, che non ha molto a che vedere né col P40 Lite né col P40 Lite e scopriamolo nella recensione completa. P40 Lite 5G Cavo USB USB tipo C, l'alimentatore addirittura da 40W supercharge, ottimo per uno smartphone di questa fascia, e poi le classiche cuffie stereo standard, non quelle in stile Apple come le chiamo io, con jack audio da 3,5 di Huawei. Rimontiamo la confezione, come vedete qua viene indicato chiaramente che non c'è una cover in confezione. Eccolo qua il nostro P40 Lite 5G, con questo retro in vetro, molto lucente, con questi effetti concentrici che vanno in direzione del modulo delle fotocamere. Un design gradevole, si sporca un po' toccandolo con le dita, non è proprio particolarmente olofobico, ma mi piace comunque nel complesso il design che è simile a quello del P30 Lite, considerando colorazione, forme della scocca eccetera, ma un modulo fotografico diverso, quindi in orizzontale invece che quadrato. Il modulo è leggermente sporgente, un pochino quando lo smartphone è poggiato su di un piano può traballare, purtroppo questo difetto non se lo riescono a scrollare di dosso, visto che sono in tanti i prodotti ad avere questo problema. Tasto di accensione con lettore di impronte digitale integrato, bilanciere del volume, sopra il secondo microfono, sul lato sinistro lo slot per due nano sim o una nano sim e una nano memory, una nano memory ovvero una memoria proprietaria di Huawei per espandere le memorie a forma di nano sim. USB-C, microfono, speaker e jack audio da 3,5 che quindi non manca. Dimensioni 162,3,75, 8,9 mm, profilo in alluminio, 189 grammi di peso che non sono tanti per uno smartphone di queste dimensioni con questa batteria realizzato in vetro e metallo. In mano lo smartphone si utilizza abbastanza bene, si riesce a impugnare discretamente e ovviamente ancora una volta per questo 2020 uno smartphone dalle dimensioni generose perché ricordiamoci che tanti di voi continuano a chiedermi cosa compro di smartphone che non sia enorme, che sia abbastanza buono ma non sia un super top di gamma da 1000 euro. Ecco, le aziende ancora non hanno colmato quel gap lì. Mettiamo lo smartphone qui da una parte, parliamo di hardware, abbiamo un processore Kirin 850 5G Octa-Core da 2.36 GHz, processo produttivo a 7 nanometri, quindi processore di recente realizzazione, GPU Mali-G57, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna che come dicevo è espandibile tramite memoria proprietaria di Huawei. Ok, connettività ovviamente 5G, stand alone e non stand alone, wifi AC dual band, bluetooth 5.1, c'è l'NFC, c'è il supporto dual sim, c'è il jack audio. Per quanto riguarda i sistemi di sblocco, come vi ho detto il più sicuro è il lettore di impronte digitali qui sul fianco che vi faccio vedere essere molto veloce, molto preciso e tra l'altro rifunziona subito dopo essere stato bloccato. Per bloccarlo ovviamente serve una pressione, per sbloccarlo invece guardate basta sfiorarlo per una frazione di secondo e lo smartphone si sblocca. Il display è un 6.5 pollici di diagonale, full HD+, 1080x2400 pixel. Se andiamo nelle impostazioni vediamo che ci sono addirittura due modalità di utilizzo, eccole qui, e tre modalità di colore, quindi normale o intensa, e poi tre modalità di colore ma comunque totalmente personalizzabile se preferite andare a farlo tramite questa ghiera di colore. C'è la modalità scura che purtroppo non è programmabile, c'è una nuova modalità ebook che non avevo mai visto sugli smartphone Huawei che fa diventare l'intera interfaccia in bianco e nero ed è molto comodo se la sera volete leggere, volete rilassare gli occhi, io la trovo fantastica. L'avevo già vista sugli smartphone di OnePlus, l'avevo sempre elogiata, fantastico ritrovarla anche altrove e spero di rivederla in sempre più dispositivi. Forse anche negli smartphone Samsung, scusate, dovrebbe esserci questa funzionalità. Schermo IPS, lo si capisce dal fatto che il lettore di impronta è sul fianco, non può essere implementato all'interno dello schermo e quindi è sul fianco. Schermo in tecnologia IPS, supporto all'HDR10, ottima luminosità. Uno schermo, scusate ma continuano ad arrivarmi le notifiche. Purtroppo il non disturbare di questo Huawei non permette di nascondere le notifiche al 100%. Fatemi sapere se c'è un modo perché io personalmente non l'ho trovato. Uno schermo che mi è assolutamente piaciuto, è molto luminoso, ha dei bei colori, è ben contrastato, la luminosità si adatta bene. Insomma, un pannello IPS fra i migliori che io abbia visto assolutamente in questo 2020 o comunque almeno nell'ultimo anno. Uno veramente dei migliori display non AMOLED in circolazione. Certo AMOLED avrebbe permesso quantomeno di avere un always on display, quindi di vedere le notifiche anche a schermo bloccato. Questo con questo smartphone non è possibile e bisogna comunque quindi arrangiarci in questo modo. La versione Android è Android 10, Android 10 l'ultima versione Android, aggiornata con le patch di maggio 2020 al momento della recensione. Ovviamente non ci sono i servizi Google, ci sono i servizi Huawei, c'è il nuovo Petal Search che è un po' un mix strano perché quando lo si apre ci sono le news. Se si preme sul cerca non ci vengono suggerite le news ma ci vengono suggerite applicazioni a scaricare perché è un tool che aiuta anche a trovare le applicazioni nel caso non le trovaste. Io ho risolto in modo ancora migliore che è il TroveApp e di conseguenza anche AppPickUp Pure. Non è la soluzione definitiva, non c'è tutto, 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 ma c'è quasi tutto. Le app che necessitano servizi Google ovviamente non funzionano. La cosa che un pochino mi sta più antipatica è che quando devo aggiornare tante applicazioni devo confermare poi una per uno quando l'AppPickUp è stato scaricato che le voglio davvero installare. Tra le novità che vi ho fatto vedere anche su un altro smartphone Huawei recente c'è Huawei Assistant dove ci sono tutte le migliorie di intelligenza artificiale di Huawei. Purtroppo nonostante l'icona questa che ci farebbe pensare al nuovo assistente vocale HiCelia, purtroppo l'assistente vocale nuovo di Huawei non è ancora disponibile perché non c'è nella nostra lingua. Gesture di navigazione, optimizer, modalità ad una mano e poi ancora il menu laterale. Questa è una cosa che mi piace è che altri dovrebbero copiare. Se tengo premuto a lungo qui ottengo un altro menu laterale, io trascino così rapidamente e ho due app aperte in contemporanea. È il miglior utilizzo di un menu laterale, tra l'altro non c'è nessun indicatore, lo si attiva tenendo premuto a lungo la gesture indietro. È una buona soluzione piuttosto che interferire con un segnettino sul lato. Ovviamente non ci sono i servizi Google, non mi starò a ripetere, è una mancanza, sì, è una mancanza. Per molti è una mancanza critica. Per qualcuno potrebbe non esserlo, anzi sicuramente per qualcuno non lo è. Dovete un po' capire il vostro utilizzo. Io alla fine lo utilizzo abbastanza agevolmente, però ci sono delle cose da risolvere. Per esempio non c'è la sincronizzazione con i contatti Google. Ho dovuto scaricare il file e ricaricarlo manualmente. Insomma, ci si giostra, tra virgolette, ma dovete sapere quello che comprate. Parliamo di fotocamere. Abbiamo quattro fotocamere, abbiamo una 64 megapixel f1.8, una 8 megapixel f2.4 grandangolare e due piccole inutili, due 2 megapixel f2.4, una per la macro e una per il bokeh. Due fotocamere inutili che servono solo a fare un modulo più grande e far credere a chi non ne capisce molto che le fotocamere possono essere migliori perché sono quattro. Questa è una cosa che fa Huawei come fanno tutti gli altri produttori. La dovrebbero smettere, non ne posso più di questi sensori a 2 megapixel. Tornate a fare quattro fotocamere quando anche le altre avranno un vero valore aggiunto. E forontalmente nel foro non ho commentato questo design. Ovviamente essendo un IPS c'è leggero, leggero, non è nero attorno alla fotocamera ma ho visto assolutamente di peggio, anche in tal senso. Per questo secondo me questo è un ottimo IPS. È una 16 megapixel f2.0. Apriamo la fotocamera, fotocamera che ha la classica interfaccia Huawei con, avete visto subito, una messa a fuoco continua che funziona bene, multipunto. Qui abbiamo il tasto per la grande angolare e anche il tasto per lo zoom 2x ma ricordate che è un crop digitale. Possibilità di attivare o meno l'intelligenza artificiale. Io ho fatto quasi tutte le foto senza, non mi è servita particolarmente. Modalità ritratto, modalità notte, modalità video e in altro abbiamo tutte queste altre modalità fra cui anche la super macro per il sensore da 2 megapixel ma ragazzi è un 2 megapixel, cosa vi poteste mai aspettare. Andiamo a vedere come sono venute le foto e le foto sono venute sorprendentemente bene. Quelle con buona luce sono foto da praticamente quasi top di gamma. A un certo punto vedrete anche una foto, una fragola rossa l'ho fatta anche con altri smartphone che hanno praticamente soltanto fotografato una palla rossa. È molto difficile per le fotocamere fotografare fiori rossi, oggetti estremamente rossi con grande dettaglio. ma vedrete comunque in generale delle buone foto non tutte perfette ma comunque delle buone foto. Anche con meno luce le foto sono comunque buone unica condizione tenere la mano un po' ferma. Mi sono ritrovato delle foto che credevo fossero venute bene perché sembravano anche dalla rapida anteprima vista al volo e poi in realtà erano leggermente mosse. Quindi finché lo smartphone vi dice tenete fermo lo smartphone tenetelo fermo davvero perché migliora la foto. Foto con poca luce, niente di che ma funziona bene la modalità notturna. Vedrete alcune foto scattate con modalità notturna che mi sono assolutamente piaciute. Insomma, un sensore fotografico, un gruppo di sensori fotografici, chiamiamolo così, diamo un po' di soddisfazione anche ai produttori che merita assolutamente la vostra attenzione. Anche la selfie cam è discreta, la 16 megapixel f2.0 e i video 4K dalla principale o full... fino al 4K 30 dalla principale o full HD 30 dalla grande angolare sono discreti. Niente di eccezionale ma sono assolutamente discreti. Quindi il comparto fotografico di questo P40 Lite 5G per me è stata una buona scoperta. Andiamo ad aprire Call of Duty Mobile e alziamo un po' il volume appena mi permetterà di farlo. Vi ricordo che qua c'è la capsula auricolare, qua su in cima, ma inferiormente lo speaker è singolo quindi non abbiamo un audio stereo, diciamo così, per quanto stereo possa essere mai negli smartphone. Eccoci, andiamo a accedere. Un bello schermo, il foro io lo dico sempre, non mi disturba particolarmente. Lo preferisco al notch, a entrambi preferisco uno schermo senza foro e senza notch, ma se devo scegliere il foro non mi dispiace. Ma secondo me è una cosa estetica perché poi alla fine i problemi che ne potrebbero sorgere che sono quasi zero, sono gli stessi. Ok? L'audio è nella media, non è uno spaccatimpani però è abbastanza ben bilanciato quindi non ci sono degli alti troppo preponderanti sui bassi. Ovviamente quando si parla di bassi si parla sempre di percezione dei bassi perché bassi veri non ce ne sono mai. Ok, vai, vai. Andiamo. Allora, come vedete è un buon dispositivo per giocare. Devo dire che tutti gli ultimi processori Kirin hanno sempre fatto bene. Questa è un'ultima generazione addirittura a 7 nanometri. Dove sono? Sono laggiù. Mi sono nascosto troppo velocemente. Vabbè, direi che avete già visto abbastanza. Vabbè, è lui. Niente. Ok. Usciamo. Eccolo qua. Ovviamente essendo in basso un pochino potreste coprirlo con la mano è un rischio che si correrà. Arriviamo parlando della batteria che è una 4000 mAh che non sono pochi sono tanti ma sono anche abbastanza normali su uno smartphone di queste dimensioni. Nonostante quindi questa normalità della grossa batteria la batteria offre dei risultati superiori a quelli di altri smartphone. Due giorni con un utilizzo medio o almeno quasi due giorni diciamo così con un utilizzo medio sono la possibilità con questo P40 Lite 5G un giorno pieno sono la normalità con qualsiasi utilizzo e in più c'è anche la ricarica rapida a 40 Watt quindi due giorni li fate tranquillamente lo mettete in carica un 20 minuti e riuscite a fare due giorni con questo smartphone che è veramente eccezionale. Oltre alla grossa batteria qui si parla di ottimizzazione software e il fatto che i servizi Huawei essendo integrati con l'ecosistema Huawei il servizio lo smartphone stesso e l'hardware quindi ottimizzazione energetica migliore poi vedremo in realtà cosa succederà in futuro perché ovviamente ad oggi i servizi Huawei offrono meno possibilità di quelli Google chissà il giorno che offriranno gli stessi servizi se l'autonomia sarà ancora così io spero di sì perché Huawei può assolutamente farcela parliamo di prezzo 399 euro che è veramente un buon prezzo per uno smartphone che offre tanto un buon hardware tanta memoria ben costruito un bel display buone fotocamere dual sim c'è il jack audio insomma uno smartphone che offre praticamente tutto eccetto i servizi Google questo tenetelo sempre a mente perché è l'unica discriminante importante per scegliere o meno questo smartphone per questa recensione è tutto un saluto da Emanuele Cisotti per Android World puntoD puntoIe puntoIe n 손 n 손 n polic n 손 di l application di Grazie.